Purtroppo siamo arrivati all'ultimo incontro di questi tre dedicati appunto a questa mini rassegna intitolata il sollevante il Giappone oltre gli stereotipi e spero che sia stato così e anche stasera di confermare questo e spero anche che ci siano altri incontri perché visto l'interesse e i temi che non mancano su cui parlare a proposito di Giappone spero che ce ne saranno degli altri incontri. Stasera però sarà un appuntamento dopo spiritualità, dopo letteratura, un appuntamento chiudiamo con gusto parlando di cibo e naturalmente c'è anche su questo argomento tantissimo da dire. Negli ultimi anni indubbiamente c'è stata una crescente passione da parte degli italiani a proposito del cibo giapponese e questo va benissimo anche se siamo arrivati per ultimi nel senso che il cibo giapponese si è trasferito dal Giappone per quanto riguarda l'Europa ha raggiunto prima la Gran Bretagna, la Francia e finalmente a un certo punto è arrivato in Italia sebbene diciamo il centro più dove si è diffuso principalmente Milano, Roma e Torino è cominciato anche ad arrivare e le prime proposte sappiamo bene che sono state, il Giappone è stato conosciuto attraverso il cibo per quanto per il sushi tutti conoscono bene o male questo questo cibo però c'è molto altro anche perché come la nostra tradizione rispetto al cibo è così ricca così antica è fatta di storia di tradizione di diversità regionali è legato è legato alle feste rituali le cerimonie altrettanto succede per il Giappone che ha una storia altrettanto lunga come la nostra ha diversità regionali come come noi e forse rispetto al cibo ha anche un elemento più approfondito che è quello dell'estetica del cibo ma di questi argomenti e di molto altro chiaramente chiederò di parlare a Stefania Viti la quale è una collega giornalista che si occupa di Giappone sotto molti aspetti ma negli ultimi cinque anni mi sembra ha pubblicato tre libri che parlano di cibo parlano di cibo come fa una giornalista scrittrice ovvero non una chef non una persona che propone ricette ma che racconta il cibo di un luogo dal punto di vista storico sociologico di curiosità in modo divulgativo il primo libro si chiamava sushi e conteneva anche un dvd con l'intervista a giro san che è il più famoso itamae cuoco di sushi del Giappone un signore molto anziano che si presenta ormai rarissimamente nel suo locale l'ha passato al figlio la gestione lui va ancora tutte le sere ma quanti anni ha? 92 un signore magrissimo molto particolare dopodiché è uscita una riedizione con approfondimenti con interventi scritti dei piccoli saggi di otto studiosi giornalisti che hanno ognuno di loro ha parlato di un aspetto del mondo sushi poi magari vi leggerò qualcosa e ultimamente pochi mesi fa è uscito il nuovo libro il libro del ramen che è l'altro mondo che sta pian piano diffondendosi anche da noi quindi Stefania racconta introduciamo qual è stato intanto il tuo avvicinamento al Giappone e che cosa ti ha stregato del cibo al punto tale da parlarne poi ripetutamente. Intanto grazie Fabiola grazie a tutti io sono onoratissima di essere questa sera qui in questo posto straordinario in questa sala poi così gremita così di così di tante persone sono veramente così colpita ma insomma va il merito va anche a Fabiola che ha organizzato questi fantastici incontri per cui grazie davvero di questo invito. e allora beh in realtà mi hai fatto quattro domande in una cioè come ti sei avvicinata al Giappone perché scrivi di cibo? Allora io in realtà sono una nepponista nel senso che sono laureata in letteratura giapponese a Ca' Foscari a Venezia per cui il mio incontro con il Giappone ormai risale a tanti anni fa e è stata la mia in realtà è stata una scelta molto pratica quella di studiare giapponese nel senso che dopo il liceo ho pensato di fare qualcosa che pochi sapevano fare perché pensavo che potesse aiutarmi a dare a trovare un lavoro al lavoro che mi piaceva per questo è stato un proprio cioè è stata una scelta tecnica dettata molto poco dalla passione però io dico sempre che il mio con il Giappone è un omiai riuscito bene cioè un matrimonio combinato che però funziona insomma a un certo punto poi ci siamo piaciuti come dire e allora il Giappone poi mi ha appassionato e io forse insomma sono rimasta simpatica ai giapponesi tanto che poi ci ho vissuto qualche anno come poi Fabiola insomma in Giappone invece la scrittura del cibo io come dicevo prima Fabiola amo molto cioè mi piace questo incontro perché finalmente parliamo di cibo non nel modo di cui mi viene chiesto di parlarne di solito cioè quando si parla di cibo spesso mi si chiedono le ricette no e questa cosa a me mette sempre molta agitazione perché io non cucino fondamentalmente ma anche in italiano figuriamoci cioè per la cucina italiana giusto insomma figuriamoci in giapponese c'è fare il dashi le cose poi il ramen che c'è una cosa complicatissima no no e in realtà come diceva Fabiola cioè i miei libri partono un po' da quello che sono da quella che ha un po' una visione diversa da quella che è uno chef io racconto anche delle ricette ovvero traduco in parole quelle che sono le ricette quelli che sono proprio che è il fare dello chef perché ognuno poi no le mani le ha però le usa per fare ciò che gli riesce meglio lo chef cucina io scrivo e anche mangio soprattutto per cui questa è anche una cosa molto per cui insomma il mio come diceva Fabiola il mio approccio è un po' questo poi qui sintetizzo molto perché sono arrivata a fare dei libri di sul cibo giapponese perché mi è stato chiesto fondamentalmente perché il libro è un prodotto molto romantico ma è anche un prodotto commerciale per cui a un certo punto il cibo in Italia e specialmente a Milano io a un certo punto sono tornata a vivere in Italia e sono cascata fortunatamente in questa fantastica città che è Milano è diventato di moda più della moda io prima scrivevo tantissimo di moda adesso scrivo pochissimo di moda e scrivo però di più più di cibo perché il cibo è la nuova moda o lo è stata e allora qui possiamo scusami ti interrompo per dire una cosa che magari può interessare cioè il fatto che per dire io sono arrivata in Giappone nell'85 quindi molti anni fa accendevo la televisione la mattina a mezzogiorno alle 4 alle 8 di sera c'erano sempre programmi di cibo con giovani donne donne più anziane uomini che insegnavano come cucinare e io ma come mai la televisione in Giappone propone sempre cibo e adesso ci siamo anche noi ci siamo arrivati anche noi cioè non puoi accendere la tv senza trovarti un cuoco o pseudo cuochi che insegnino delle ricette ecco in Giappone succedeva già nell'85 e allora insomma con Feltrinelli poi a un certo punto è successo che Girono questo chef straordinario io vi invito se andate a Tokyo a provare a cercare di fare costa moltissimo però e bisogna prenotare molto se uno ci riesce ma insomma comunque un'esperienza di no perché poi anche qui bisogna dire no perché uno ti dice sì vai da giro dice ah ma quante sushi fanno il sushi che fa giro e ho capito però quello lo fa giro cioè giro è un'istituzione c'è un pezzo di storia il primo chef giapponese che ha preso le tre stelle Michelin per il sushi è entrato nel Guinness dei primati perché è quello chiaramente adesso c'ha 94 anni io sono andata a novembre la cena da lui e cioè per cui insomma voglio dire è un pezzo di storia cioè riuscire a fare una cena da lui è comunque un ricordo per la vita va no e comunque quando ha preso le tre stelle Michelin e io qui lo sottolineo sempre gli americani hanno fatto questo film sulla sua vita che noi poi abbiamo portato in Italia qualche anno dopo perché giro ha preso le stelle nel 2008 la terza e da noi è arrivato nel 2013 con Feltrinelli real cinema in quell'occasione Feltrinelli mi ha chiesto di curare il libro allegato e qui è cascata un po' l'asino nel senso che una casa editrice ti chiede di curare un libro che va affiancato al film sulla vita di uno dei più grandi chef del mondo e cosa fai tu lo fai sì però dico uno dice che fai cioè la cosa più chiaramente semplice e mi dicono eh vabbè traduciamo le ricette e lì è cascato l'asino perché giustamente giro siccome è un genio e soprattutto è giapponese e sa che cos'è il sushi non l'ha mai scritto un libro di ricette di sushi e allora anche perché sa che il sushi non si deve fare a casa appunto appunto allora da lì è entrata poi no ci siamo un po' chiesti che cosa poter fare poi da tanti input mi davano un po' così mi facevano capire che era giunto il momento di raccontare quello che era veramente un piatto come quello che è il sushi perché in realtà lo si conosceva pochissimo io nel libro dico anche che si mangia tanto il sushi ma in pochi sanno cosa sia questo sushi allora lì ci siamo un po' divertiti con colleghi così a fare un po' dei saggi che raccontassero il mondo del sushi cioè il sushi diventa la parola chiave che apre un mondo che è quello del Giappone per cui il sushi è l'economia, il sushi è la storia, il sushi è la geografia specialmente per l'immagine del Giappone all'estero perché all'interno del Giappone il sushi è una cosa ben precisa ma non è l'icona, è fuori dal Giappone che è l'icona lo sai anche tu, in Giappone si mangia il sushi ma non è che si mangia il sushi tutti i giorni come all'inizio si pensava che si mangiasse sushi ogni giorno il pesce crudo ogni giorno in Giappone si mangiano tantissime cose, adesso siamo un po' più avanti ma però quello che è interessante è che lui che è un grande esperto, cioè uno dei più grandi esperti non abbia mai fatto, non abbia mai scritto un libro di ricette, capisci? questo è il punto, perché il sushi non è una ricetta è un pezzo di arte, è un pezzo di storia poi lui a un certo punto ha fatto un libro che si chiamava Sushi con il sottotitolo più bello che potesse dargli Sushi estetica e tecnica perché la cucina giapponese è questo, è estetica e tecnica ma una tecnica talmente raffinata che diventa poi semplice quasi, come lo è il sushi io dico sempre anche che la grande fortuna che ha avuto il sushi è quasi dovuta a un fraintendimento cioè si è pensato che una pietanza, un preparato così semplice corrispondesse a una ricetta semplice e non c'è niente di più errato, come sempre nelle cose giapponesi che sembrano facili e poi insomma non lo sono allora ti interrompo un attimo appunto prendendo il tuo libro l'arte del sushi quindi il secondo, volevo leggere qualcosa il primo intervento che è di Pio De Miglia che è giornalista corrispondente di Sky TG24 e ha scritto per il manifesto eccetera 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 che appunto ha scritto, vabbè proprio la prima frase è come l'imperatore lo è del popolo, il sushi è il simbolo della cucina giapponese e poi un altro titolo che dice mangiare con gli occhi e qua spiega un pochino che cosa vuol dire un po' l'atto del mangiare cosa rappresenta per i giapponesi guai a confondere il cibo giapponese con la necessità di alimentarsi così come il dormire in treno, in taxi, al cinema, a un convegno è altra cosa rispetto al riposarsi così il mangiare nel senso filosofico, industriale di trasformare un prodotto in energia vitale assume forme diverse e molteplici declinazioni non bisogna essere esperti amatologhi o chef multistellati per comprendere, come fece Roland Barthes nel suo insuperato Impero dei Segni scritto dopo qualche breve soggiorno in Giappone che la differenza tra un sushi acquistato alla stazione e uno preparato davanti ai vostri occhi in un ristorante di Ginza non sta solo nel prezzo con un paio di euro infatti riempite lo stomaco ma per nutrirlo si parte oggi da 50 euro in su i giapponesi come oramai tutti dovrebbero sapere sono infatti enterocentrici pensano cioè con la pancia considerata il centro vitale del corpo mangiare da qui a richiedere, questo lo taglierei mangiare, opero delle censure così mentre leggo mangiare prima che una necessità è dunque una scelta oltre allo stato del portafoglio si sceglie quartiere, locale e menu in base al chi all'energia di quel momento allo stato d'animo o dell'occasione e infatti è proprio così il sushi si mangia nel sushi A nel ristorante di sushi se vogliamo la pasta si va nel ristorante dove fanno pasta giapponese oden, kishimen eccetera eccetera se si vuole mangiare del pollo alla griglia o della carne alla griglia si va nello yakitori per ogni cibo c'è un luogo ben preciso che può essere dal più sofisticato al meno sofisticato dalle bancarelle al luogo bellissimo però appunto ci sono tutte queste diversificazioni dipende dal momento dall'occasione eccetera eccetera io intanto ti ringrazio per aver letto questo saggio di più di Emilia perché io dico sempre che ho messo questo saggio io ho curato ho creato questo libro l'ho scritto una parte ma poi sono davvero contenta ho avuto la fortuna di avere degli amici straordinari tra cui Pio che hanno contribuito a fare questo libro hanno scritto proprio questi saggi e uno di questi è proprio quello di Pio che è proprio un racconto io veramente vi invito a leggerlo perché è divertentissimo proprio prosegue in modo divertente e racconta un po' davvero la quintessenza e la visione dei giapponesi per il cibo sì in Giappone a differenza dei nostri ci sono anche le isakaya dove si mangia un po' di tutto però sono assaggini ecco qua per esempio Miyabi dice vorrebbe essere un'isakaya poi è difficile portare un'isakaya in Italia per esempio è difficile portare la cucina giapponese in Italia in generale però è composto come l'isakaya che dovrebbe essere un posto dove si va per stare insieme per mangiare e bere quindi mangiare piccoli piattini e bere insieme e stare insieme in modo informale sì anche perché poi per esempio quando si mangia nelle isakaya in Giappone nessuno si ordina tutti insieme poi si mette nei piatti davanti ognuno poi il proprio piattino però si attinge tutti come posso dire dai piatti centrali cioè proprio il senso della condivisione è fondamentale comunque quando si arriva quando si va a mangiare giapponese per cui a parte le zuppe come il ramen insomma c'è molto questo senso aspetta che poi di ramen parliamo tanto sì certo sì per cui no questo libro racconta un po' appunto tutti questi aspetti del del sushi e anche la sua geografia per cui ci siamo divertiti anche a raccontare perché la cultura la culinaria giapponese è molto simile anche a quella italiana no per cui ci sono tante regionalità e anche nel pesce perché non ci dimentichiamo che la cucina giapponese è una cucina stagionale cioè è la la stagione in persona cioè se si volesse mangiare giapponese davvero bisognerebbe bisogna stare attenti poi insomma proprio tanto anche alla stagionalità non solo delle verdure per cui dei vegetali ma anche dei pesci perché non tutti i pesci sono disponibili o lo sarebbero compreso il tonno tutto l'anno cioè una cosa che è arrivata molto dopo insomma ma ecco però raccontiamo un pochino un po' di storia cioè il fatto che comunque come nasce no? qual era il sushi all'inizio? com'era il sushi? non era quello che vediamo adesso c'è il rettangolino di riso con sopra la fettina di pesce il wasabi in mezzo ma era qualcosa di diverso era nato per appunto per conservare il pesce quindi si prendevano dei pezzettini di pesce e lo si metteva dentro il sacco di riso proprio con i chicchi di riso in questo modo si riusciva a far seccare il pesce e a conservarlo per tanto tempo e poi sì infatti all'inizio all'inizio insomma in epoca eian comunque in epoca classica il riso veniva non si mangiava veniva quello che veniva utilizzato per portare diciamo il pesce pescato da dove si pescava poi alla corte imperiale di Chioto per cui si utilizzava questo sistema di fermentazione per conservare appunto il pesce poi il riso veniva buttato via e si mangiava poi praticamente soltanto questo pesce infatti esiste ancora vicino al lago Biwa che è un lago vicino proprio nella zona di Chioto uno diciamo dei sushi più antichi che si chiama Nare Zushi che è proprio una delle ricette più antiche di sushi e che ovviamente è salatissima adesso si mangia molto poco solo in epoca recente quando poi diciamo si inizia a conservare arrivano il pesce crudo per cui il sushi poi cambia anche come posso dire livello perché nasce perché poi era un piatto che si mangiava per la strada per cui nasce come street food poi cambia perché durante la seconda guerra durante la guerra insomma diventa ovviamente con la carestia di riso con la carestia proprio di cibo diventa anche solo mangiare un pezzo di pesce diventa qualcosa di squisito da lì inizia proprio il fatto che i ristoranti di sushi si trovano in posti molto nascosti quelli più buoni nasce proprio da questo fatto perché a un certo punto con la guerra era talmente scarso il cibo che insomma un po' come succedeva praticamente negli Stati Uniti con l'alcol che si vendeva sotto banco un po' succede anche con il cibo in Giappone e allora quest'aura un po' di cibo alto adesso si ha un pochino come dire adesso un po' entrambe le letture cioè hai sia come dice Pio il sushi squisito esteticamente perfetto di Giro o di tanti altri nella Ginza Ropponghi o dove vai così come invece le sushia più semplici che le trovi dappertutto anche i kaitenzushi ma addirittura anche per indicare proprio il sushi io qui lo dico all'inizio del libro i kanji cambiano non tutti leggono i kanji ma un giapponese sì e di conseguenza il giapponese sa se quello è una sushi di alto livello tra virgolette e oppure se è un kaitenzushi è diverso la scrittura cambia per cui ci sono tante letture comunque per dire per finire poi alla storia quando poi ovviamente si inizia a conservare poi anche il pesce arriva il ghiaccio per cui è la possibilità di refrigerare poi proprio anche il pesce ovviamente si inizia a mangiare anche il riso perché ovviamente il riso è la base della cucina giapponese no? per cui un'altra cosa che ci terrei a chiarire è il fatto che comunque il sushi si mangia al ristorante si mangia fuori si può anche ordinare per cui si telefona alla sushi più di fiducia più vicina a casa si dice quattro porzioni di sushi così e cos'ha e te lo portano a casa con questi grandi piatti e coperti che poi si lasciano una volta finito di mangiare e si lasciano fuori dalla porta e vengono ripresi e riportati al ristorante non si fa a casa perché il sushi di casa è un'altra cosa c'è un modo diciamo per esempio oggi il 6 marzo il 3 marzo in Giappone è festa nazionale è la festa delle bambine Hinamatsuri o la festa delle bambole insomma è un'antica cerimonia nata nel periodo Heian per cui i genitori di bambine avevano costruivano delle piccole bamboline che poi venivano messe su dei vassoietti e lasciate andare lungo il fiume e c'era ovviamente un prete scintoista che accompagnava questa cerimonia per cui in questo modo si facevano andare lungo il fiume e si mandavano via tutte le calamità o le negatività che durante l'anno potevano colpire le bambine si è trasformata negli anni questa festa è diventata la festa delle bambole per cui su un display a gradini si mettono delle bambole secondo un certo ordine le bambine si vestono con il kimono giocano con le amiche si mangiano alcuni dolcetti e si fa il sushi di casa per esempio che cosa vuol dire il sushi di casa? vuol dire che si cuoce il riso alla maniera del sushi quindi con un po' di aceto ma non si fanno i machi oppure i rotolini poi tagliati oppure i rettangolini bensì si mette il riso una volta cotto in un grande contenitore il pesce che può essere il tonno o altro viene battuto si fa una tagliata si dice così una tagliata con il pesce si mette sopra si tagliano delle fettine di cipollotto dell'uovo dell'uovo tamagoyaki tagliato a fettine e questo è il sushi di casa ed è il sushi che per esempio si mangia il 3 marzo durante la festa delle bambine altrimenti si va fuori perché il sushi è una festa è un'occasione importante si celebra qualcosa e deve essere mangiato guardando l'itamae o gli itamae cioè guardando fidandosi della persona che in quel momento del cuoco che in quel momento te lo fa sul momento ti taglia il pesce sul momento ti prende il riso dalla pentola e te lo forma e questo è sì diciamo che in effetti una delle caratteristiche anche allora due cose intanto c'è Stefano Carrara in questo libro che lui parla di economia e inizia appunto corrispondente di sole 24 ore dal Giappone e noi racconta proprio così di questa di questa sua amica che va in Giappone pensando così che i giapponesi mangiano solo sushi va in Giappone e mangia praticamente continuamente sushi fino a sentirsi male questo per dire quello che può succedere così a chi proprio ecco non è come ha detto Fabiola non è proprio così no che poi è bello perché finalmente si è scoperto che in Giappone si mangia anche la carne anche quello andrebbe poi raccontato come è fatto no? aspetta poi invece di cosa parlavi scusami sono persa con Stefano che cira se i sushi insomma questo sushi di casa tu dicevi che appunto lui ha raccontato questa cosa di questa amica che si è sentita poi male sì 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 no perché il sushi appunto poi poi chissà dove andava a comprarlo non lo so magari lo comprava al supermercato sì ma no ecco volevo dire questo è una cosa importante perché poi sì il sushi non si fa a casa generalmente io ho vissuto io avevo anche un marito giapponese per cui insomma però vi posso assicurare che anche nella casa giapponese non cioè non abbiamo mai fatto il sushi mentre eravamo lì insomma appunto magari lo ordinavamo da fuori però una cosa che è interessante secondo me dire è come si riconosce un buon sushi quando lo si mangia perché alla fine cioè questo sushi non lo si fa a casa si va fuori a mangiarlo ma come lo si riconosce io nel libro un po' racconto quelli che sono alcuni espedienti un po' che dovrebbero farci capire se siamo di fronte a un sushi buono o un vero sushi oppure no la prima cosa pratica da da notare quando si mangia il sushi per esempio se vai da giro la prima cosa che devi fare intanto è ammirarlo ammirare la bellezza e l'equilibrio del del panetto e giro ha pure tutta una sua estetica in cui dice che il pesce che sta sopra non deve essere troppo lungo avete visto certe volte ci sono quelli che mettono fanno quasi un'onda di pesce sopra lui dice che quello per esempio invece non è bilanciato non è esteticamente perfetto ma soprattutto la prima cosa è che il sushi deve essere a temperatura ambiente quasi tiepido non deve essere freddo se vi danno da mangiare il sushi freddo quello non è sushi quello è una cosa che hanno fatto tre giorni prima l'hanno messa in frigorifero e quando voi la chiedete ve la tirano fuori e ve la danno ecco quello non è il sushi comunque che si mangia in Giappone giusto? giusto specialmente il riso quando è duro è appiccicato è duro infatti poi se andate in Giappone se mangerete il sushi in Giappone vedrete che il wasabi non lo troverete come posso dire come succede spesso all'estero fuori cioè nel piattino o comunque diciamo il sushi separato separato il wasabi è dentro al sushi e al riso al panetto infatti Pio che ti ho citato dice dobbiamo imparare a non evirare il sushi per favore non eviriamo più il sushi io mi batto la mia battaglia per il wasabi perché il wasabi va tra il panetto va tra il pesce e il panetto non va a nessun intingolo salsina pasticcio cosa che poi appunto il pasticcio cioè la salsa con questa cosa verde cioè non si può vedere no va lì dentro anche perché poi da equilibrio ragazzi è il sapore cioè non è che questo qui una volta anche lì la storia devo dire la prima volta che io ho mangiato un sushi ero in Giappone e ero assolutamente non sapevo niente a digiuno in tutti i sensi per cui appunto intanto mi raccomando sushi se lo bagnate nella salsa di soia dalla parte del pesce mai il riso nella soia pesce che si mangia un boccone solo dicono e per questo il pesce deve essere morbidissimo e anche il riso deve essere a temperatura giusta eccetera eccetera dopodiché ho mangiato quando è arrivato il wasabi ho cominciato a piangere cioè mi sono uscite le lacrime e non sapevo cioè pensavo io di avere una reazione in consulta mentre ovviamente i sadici degli amici giapponesi che ti guardavano che aspettavano quel momento di vederti così no terribile sì no infatti poi ha detto però comunque questo benedetto wasabi quando vi è andata a mangiare il sushi voi chiedete wasabi dentro diteglielo perché io mi batto e lo chiedo sempre fatto alla giapponese poi come ha detto Fabiola chiaramente se invece la salsa di soia non viene spennellata sopra perché comunque nelle sushi ad altissimo livello poi neanche il piattino di soia vi danno cioè è già tutto pronto il kit viene spennellata leggermente anche lì anche lì rispettiamo il pesce cioè rispettiamo questo essere vivente che ci ha dato ex vivente che ci ha dato la sua carne cioè la salsa di soia cioè non serve per fare il bagno cioè il pesce non va intinto e bagnato a coprire il sapore del pesce perché qualcuno si sforza quasi di mangiare il pesce crudo perché chissà che gli sembra come se noi non mangiassimo il carpaccio tutti i giorni voglio dire e allora lo intinge a togliere perché sa di pesce e deve sapere di pesce perché ogni pesce ha il proprio sapore la salsa di soia lo esalta leggermente ma va insomma utilizzata con discrezione anche questa non è che ne va abusato poi ovviamente sempre dalla parte del pesce ma quella del riso però insomma queste accortezze sono fondamentali se assolutamente da mangiare in un solo boccone e se lo prendete riuscite a prenderlo con le bacchette le bacchette vanno posizionate sotto al riso in modo tale che quando lo alzi ti si alza tutto il panetto non a metà che poi si rompe e comunque va benissimo mangiarlo con le mani va benissimo non è obbligatorio non è galateo usare hashi va benissimo usare le mani e così è giusto sì sì per cui insomma questi sono alcune diciamo alcuni modi comunque diciamo il modo più giusto il modo nel quale i giapponesi mangiano il sushi ed è bene iniziare insomma utilizzarlo anche noi senti adesso io passerei invece all'altro mondo che sta conquistando sempre più spazio nell'interesse e anche nelle proposte dei vari ristoranti giapponesi che spesso sono molto misti qui da noi in un ristorante giapponese puoi mangiare sushi puoi mangiare molto altro anche e adesso finalmente incominciano anche esserci le proposte di ramen e che è tutta un'altra cosa tu hai scritto appena un libro fra l'altro se vuoi ah sì possiamo mandare se volete le slide ma mandarle però in loop perché non è che io segua allora sì il libro del ramen è come dire grazie Fabio la sua così gentile mi fa anche testimonial per il libro sì abbiamo con Gribaudo Feltrinelli iniziato così questa avventura raccontando la cultura gastronomica giapponese appunto dopo una trilogia dedicata al sushi perché poi dopo questo ho scritto anche insieme a Poporoi il sushi tradizionale dove lì si trovano un po' delle ricette semplificate sul sushi abbiamo deciso di scrivere questo libro che è il libro del ramen proprio intercettando un po' quello che è la nuova tendenza relativa alla cucina giapponese che adesso va tanto di moda perlomeno a Milano insomma i ristoranti ora non so qui a Torino comunque a Milano i ristoranti di cucina giapponese fatti oggi da giapponesi iniziano insomma ad essere numerosi dove qui abbiamo diverse proposte di giapponesi autentici ce ne sono due ma fanno cucina in generale o c'è anche ramen così ma Miyabi per esempio ha cominciato ogni tanto a proporre ramen però non lo propone tutti i giorni mi sembra che ci siano dei giorni in particolare in cui lo propone wasabi fa ramen altrimenti ci sono japs catene oppure altri ristoranti che dicono di essere giapponesi cioè hanno il nome giapponese fanno cucina giapponese non sono gestiti da giapponesi io in realtà non li frequento particolarmente però so che poi c'è Luca Luca Aya Ramen che è un ragazzo pugliese che diversi anni fa si è trasferito a Torino aveva imparato aveva conosciuto ramen mentre era a Los Angeles aveva chiesto al cuoco giapponese di insegnarli così ha fatto è venuto a Torino si è laureato in economia e ha aperto questa sua ramen ya proprio solo ramen e ghiosa in via San Domenico angolo via Piave si chiama Luca Luca Iara ramen ya Luca sì qualcosa del genere qui a Torino e adesso ne ha aperto una a San Salvario quindi ha due locali dove fa ramen allora il ramen va per la maggiore sì no qui adesso io ho portato delle slide per far vedere un po' come è strutturato il libro nel senso che la prima parte comunque racconta un po' sempre il mio modo di raccontare il cibo cioè ci sono le tavole cronologiche c'è la storia c'è tanta geografia è un modo per conoscere di nuovo il Giappone in modo diverso perché comunque anche il ramen è una pietanza che si declina in tantissimi modi ci sono delle basi insomma è un piatto unico più che una pietanza sì sì un piatto unico con delle basi così diciamo ma tanto spieghiamo fondamentalmente pasta sì in brodo sì in un brodo molto particolare molto speciale e anche qui chi ha visto Ramen Girl eccetera eccetera sa che anche se il ramen in confronto al sushi è un piatto assolutamente popolare però c'è un modo di fare il brodo che varia da cuoco a cuoco ecco e che fa la differenza insomma sì il brodo è la diciamo la chiave di lettura del ramen esistono delle preparazioni dei brodi di base che sono il miso poi c'è lo scio il sale lo scioglio poi c'è il toncozzo quello invece fatto con il maiale o il pollo il miso è una pasta è una pasta che serve per per fare tante cose che è soia fermentata e che può essere comunque ci sono tanti tipi di miso c'è il miso con l'aggiunta di orzo il miso con l'aggiunta di riso ci sono dei miso molto chiari che sono tipici delle regioni del nord e man mano che si scende verso il sud verso il kyushu il miso diventa marrone rosso perché è più forte ha un gusto più forte ha un gusto più forte poi lo scio è il sale e poi la salsa di soia e poi il toncozzo invece quello fatto con però fondamentalmente queste sì no io volevo semplicemente dire che il brodo è la chiave di vari tipi questi sono i quattro proprio per dirli semplicemente per darvi una griglia di lettura di questa pietanza però poi si possono mescolare per esempio a casa ramen io racconto anche alcune ricette di alcuni chef di rameia che sono a Milano una di queste è Luca Catalfamo di casa ramen che è stato il primo chef straniero a avere il proprio negozio al museo del ramen di Yokohama e per cui insomma per dire lui fa il toncozzo ramen l'ho scelto perché fa il toncozzo ramen che è rarissimo trovarlo e addirittura mescola tre tipi di brodi perché mescola il dashi poi fa un brodo vegetale poi fa il brodo con le ossa per cui ho una preparazione proprio quella del brodo molto complessa tre giorni mi sembra per fare il brodo infatti anche per questo il ramen come il sushi non si fa di solito a casa anche questo si mangia fuori però si possono comprare al supermercato le bustine con i ramen precotti certo poi vi leggo una cosa a proposito ovviamente non hanno niente a che fare con i ramen che vai a mangiare nella ramen ya sì sì certo però sono buoni no sì poi praticamente ha ha questi men cioè questi tagliolini lunghi che sono a differenza della nostra pasta però sono un po' più elastici hanno vengono fatti con un impasto che li rende un pochino più elastici rispetto alla nostra pasta dura di grano duro poi sopra ci sono praticamente le guarnizioni ci sono guarnizioni classiche come l'uovo e anche il chashu che è praticamente questo maiale in un certo senso fettina di carne stufata poi ci sono appunto i cipollotti ci sono delle verdurine c'è il naruto che è questo pallino quello rosa quello rosa vedete e poi però in realtà anche questo piatto viene declinato a seconda delle regioni cioè viene fatto con gli ingredienti regionali per cui cambia tantissimo cioè se si va nell'Hokkaido appunto lì di solito si fa che è nel nord del Giappone va molto freddo chiaramente lì si mangerà o la specialità locale per esempio è un ramen a base di miso perché il miso appunto è caloroso è fermentato la gente ha bisogno ovviamente quando ci sono le temperature molto fredde di avere anche dei piatti caldi anche che diano molta energia più scendi e più si alleggerisce la situazione per cui ci sono ramen anche appunto soltanto più semplici anche con la soia per cui insomma è un piatto davvero interessante e per me anche tornando un po' alla scrittura è stata una sfida al contrario perché ho passato i primi tempi a raccontare come posso dire il piatto zen cioè il piatto minimalista cioè il sushi che è fatto di tre cose il riso e il pesce e adesso invece ho raccontato un piatto che è sempre la quintessenza del Giappone perché non c'è piatto più piatto popolare del ramen in Giappone però che invece trova l'armonia nell'unione dei sapori cioè ci sono brodi che uniscono il pesce con la carne cioè ci sono cose così dei virtuosismi proprio culinari straordinari e che così è proprio un'altra cosa però l'impronta è sempre quella c'è l'armonia e in Giappone si cerca quella ecco se facciamo poi un confronto tentiamo insomma un confronto sushi ramen a parte il fatto appunto che no perché volevo magari se c'è il ragazzo anziché il mio nome che è così stagliato così quello magari ci sono si vedono le le come si dice le slide dove ci sono non c'è vabbè ah ecco no ecco così sì no perché dove si vedono almeno tutte le copertine o così perché visto piuttosto sì dicevo appunto scusami tentando un confronto sushi ramen abbiamo detto il sushi comunque è un piatto abbastanza sofisticato è un piatto della festa mentre il ramen è un piatto assolutamente popolare è un piatto che è una ricetta un qualche cosa che piace dai bambini alle persone molto anziane mentre per esempio i bambini sushi non lo mangiano perché pesce crudo non si dà ai bambini si lo mangiano da una certa età in poi ecco e quindi ed è un qualche cosa che si può mangiare sempre a qualsiasi ora specialmente la sera sì e poi vorrei sfatare il fatto che bisogna per forza fare rumore quando si mangiano i ramen perché sembra un'altra di quelle cose nel senso che gli uomini si fanno così ma non è obbligatorio le signorine non lo fanno no vabbè allora diciamo questo che non è obbligatorio però dai se vai in una sushi giapponese non senti nessuno che tira su è strano sì 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 no ma sai non può essere una sushi cioè scusa in una rameglia e mangiare in modo cioè gli uomini fanno così cioè in Giappone si tira su noi no io non lo faccio però un po' si tira su un po' si tira su questo no ma a volte sai si leggono quelle cose devi assolutamente fare rumore altrimenti vuol dire no non ce n'è ecco sì però in Giappone è normale fare rumore quando si mangia il ramen è anche un segno di apprezzamento anche perché sono talmente lunghi questi spaghetti che altrimenti non riesci caldi perché un'altra una delle ecco una delle differenze è un po' come con il wasabi no per il sushi cioè il ramen ha una caratteristica e che è quello che deve essere bollente il brodo deve essere bollente cioè non esiste il ramen tiepido come non esiste la zuppa di miso la miso shiro tiepida come spesso viene servita non si può vedere sta cosa di questi ramen tiepidi per venire incontro al gusto ma non è di niente perché non è quello il ramen deve essere bollente poi quando tu assaggi il ramen assaggi per prima cosa il c'è il rengue c'è il cucchiaio quello cinese perché le origini del ramen sono cinesi fai e assaggi proprio il brodo perché il brodo che dà il timbro la chiave musicale di questa armonia cioè te la dà il brodo per cui assaggi prima il brodo lo senti lo degusti lo decanti lo così lo sogni lo gusti e poi piano piano inizi cioè non a mescolare ma assaggiare poi anche insieme la pasta e poi piano piano i vari ingredienti perché anche lì c'è tutto un suo balletto c'è tutto nella degustazione del ramen insomma no e poi deve essere caldo assolutamente comunque non c'è niente di veramente di più accogliente di più confortante quando fa freddo sei in giro hai fame appunto a qualsiasi ora se trovi una rame a entrare a parte che si è sempre accolti sia nella sucia anche che nella rame tu entri e si sente subito tutto il personale dietro il bancone urlare irasciai masè quindi ti danno il benvenuto quindi c'è comunque un'atmosfera così accogliente eccetera casareccia proprio perché poi è proprio ora col fatto che è diventato un po' di moda si trovano anche queste rameie un po' sofisticate ma insomma la rameie è una bettola fondamentalmente cioè nell'immagine anche voglio dire delle letterarie o comunque della cultura dei film cioè la rameie è una bettola e proprio perché è una bettola è buona è sa di autentico e c'è la mamma san che ti prepara il rame o la coppia capito che campa facendo questo ramen per il quale trovare l'armonia di tutti questi sapori è un po' diciamo la missione nella vita come diceva Fabiola il ramen lo mangiano tutti ma anche per questo che il ramen si trova anche a livello letterario poi in tantissima cultura pop c'è tutta la cultura underground degli anime dei manga c'è sempre il ramen Doraemon mangia il ramen cioè fanno tutti perché proprio quella cosa appunto come dicevi te che ti dà calore accogliente cioè non è per cui è così infatti prendo lo spunto appunto letterario a parte il manga c'è anche un manga ultimamente che è la signorina non so che ama il ramen che è una ragazza giovane liceale che è innamorata del ramen e va in giro per tutto il Giappone a provare tutti i ramen possibili immaginabili nei vari posti questo è molto tipico ci sono un sacco di blog in Giappone tutti quelli fissati con i bento perché un'altra cosa è bella i bento allora ci sono i manga io mi ricordo adesso non mi ricordo come si chiama sto manga ma di questo qua che io questo autore che lo conosco anche e l'ho conosciuto è il Milano Manga Festival che ha fatto questo manga dove viaggia perché ci sono gli ekiben cioè i bento quelli delle stazioni cioè questo si avviaggia tutto il Giappone e ha raccontato nel manga tutti i bento delle stazioni perché anche lì stazione che vai facciamolo noi è bellissima stazione che vai e chi ben che trovi per cui anche questa del ramen ci credo che ci sia insomma allora questo proposito per dire non ho dei manga però ho preso questo libro di Banana Yoshimoto che tratteremo fra l'altro nel nostro gruppo di lettura al Mao prossimamente si chiama L'abito di piume e la protagonista è una una giovane ragazza e a un certo punto torna lei vive a Tokyo da qualche anno ma è originaria di un paesino dove abita ancora il padre dove ha ancora gli amici e le amiche di infanzia più che altro un'amica di infanzia insomma ritorna a casa ma dato che è finita la sua storia con il suo ragazzo eccetera eccetera è un po' depressa o comunque triste non riesce tanto a dormire non ha tanto appetito in sostanza una notte si sveglia molto tardi appunto sarà stata mezzanotte luna e va a fare una passeggiata e ancora in pigiama si mette solo qualcosa addosso ed esce in tasca avevo il portafogli anche se ho indosso il pigiama basta che non mi tolga il cappotto quasi quasi mi mangio due ramen a dire la verità quello era un periodo in cui avevo poco appetito quella notte però mi ero svegliata con una fame da lupi trovo una scritta con su scritto ramen salgo al primo piano e mi trovo davanti a una porta chiusa una di quelle moderne di una qualsiasi abitazione privata leggermente disorientata decisi comunque di suonare il campanello dopo qualche secondo senti dei rumori proveniri dall'interno e un ragazzo con la faccia ancora mezza addormentata venne ad aprirmi troppo intontita per avere la forza di stupirmi riuscii soltanto a pensare quanto incredibili fossero gli scherzi del destino era il tipo che avevo visto per strada qualche giorno prima quello che mi aveva ispirato una grande nostalgia volevo mangiare dei ramen dissi io prego prego fece lui accogliendomi con calore nonostante l'avessi buttato giù dal letto aveva ancora i capelli tutti schiacciati da una parte entrai e rimasi di stucco più che un ristorante era un normalissimo appartamento dove in un angolo era stato allestito un bancone per i clienti ci saranno stati cinque posti in tutto immaginai che dormisse nella stanza subito dietro al paravento che si vedeva chiaramente oltre a me non c'era nessun altro abbiamo gli shio ramen i miso ramen oppure i ramen misti disse lui da dietro al bancone poi si mise ad aprire dei sacchetti di plastica ma non saranno mica dei ramen precotti vero quelli sono i sapori ciban no balbettai sì sì però ci metto dentro i germogli di soia un uovo e il burro è una bella manciata di pepe e di sesamo fece lui sorridendo e quanto verrebbero 300 yen allora dei ramen misti per favore per favore ah e poi anche una birra questo è appunto per dire comunque in un piccolo paese a mezzanotte a luna si alza fame cammina vede un'insegna di un appartamento come comunque succede anche a Tokyo è abbastanza normale a Tokyo camminare e recarsi al terzo piano al quarto piano di un building dove c'è il ristorante indiano c'è il ristorante di ramen eccetera oltretutto il ramen io qui un po' lo dico nelle curiosità è un po' come dicevi tu la pietanza che i giapponesi mangiano sempre specialmente i salari men perché poi costa poco per cui insomma è una pietanza completa ma poi siccome è anche grasso assorbe l'alcol per cui questi salari men che si fanno le serate ma non solo i salari men insomma se uno si fa una serata e beve parecchio prima di tornare a casa prima di prendere la prima metropolitana delle cinque è normale come noi andiamo a prenderci il cappuccino come posso dire il caffè la mattina questi si vanno a fare un bel ramen perché ti asciuga capito l'alcol che hai dentro tra la pasta così il brodo ti riequilibria è sempre un buon momento è sempre un buon momento per il ramen assolutamente sì volevo ancora dire che a un certo punto adesso abbiamo parlato del mondo sushi abbiamo parlato del mondo ramen ma ce ne sono davvero tanti per esempio a me piacerebbe tantissimo a un certo punto parlare del riso e curry che buono a dirla così sembra un piatto indiano no ed effettivamente è arrivato in Giappone grazie agli indiani che sono arrivati a Kobe che si sono fermati che hanno portato con loro il curry eccetera come hanno fatto con il ramen come hanno fatto con qualsiasi cosa i giapponesi a cui è piaciuto questo gusto l'hanno trasformato nel loro curry rice quindi il curry non lo mettono in polvere oddio vabbè se fai un procedimento lunghissimo metti tante cose ma insomma vendono delle confezioni con delle specie di una pasta di curry di varie gradazioni si può scegliere quella più piccante quella meno piccante quella media e poi cuociono il riso alla giapponese quindi il riso rotondo e piccolo non il basmati e in questo curry aggiungono delle verdure del pollo oppure del pesce ed è un altro di quei piatti come il ramen assolutamente popolare che mangiano tutti che si può mangiare fuori che si può mangiare in casa e che è veramente per tutti ed è ormai un piatto assolutamente giapponese sì sì no ce ne sono tanti in realtà piano piano anche noi li stiamo scoprendo noi a Milano abbiamo anche noi poi se fossi milanese comunque tu sei toscana insomma dai ormai a Polide perché sono nata in Toscana ma stando un po' qua un po' là allora sì no cioè in realtà la cucina giapponese è molto varia variegata finalmente si sta scoprendo appunto anche la carne pensa che io sono stata una sera mi hanno portato a mangiare addirittura la carne di cavallo che io non mi sarei mai aspettata in Giappone di trovare dei posti specializzati solo in carne di cavallo eppure esistono come gli yakitori cioè gli yakitori ma solo di cavallo capito non di pollo sono rimasta un po' così cioè era un po' però insomma per dire che comunque la cucina giapponese è molto vasta sia noi non volevamo parlare così non abbiamo toccato il discorso della cucina vegetariana ecco infatti adesso per bilanciare quello che appena detto la cucina vegetariana poi sì adesso tu di una cosa poi ne voglio dire un'altra ma no e poi e soprattutto questo che cosa ci dice questo ci dice che i giapponesi a modo loro sono sempre stati molto meno talebani di noi nella nell'accogliere i sapori e le cucine che arrivavano da fuori perché un po' con tu già loro con la lingua cioè voglio dire hanno fatto no incetta però vedi pur cioè pur accogliendo loro rimaneggiano perfezionano fanno un po' le cose a modo loro per cui il ramen anche se va in Cina ha il ramen ma un altro ramen è meno buono di quello giapponese perché loro poi hanno perché lì anche lì è una questione di brodi no i giapponesi poi ci hanno fatto una filosofia dietro al brodo per il ramen i cinesi lo fanno fanno un brodo comune e lì i cascalasi no cioè poi chiaramente nel mondo si è diffuso il ramen giapponese non quello cinese e e allora anche con il car e con tante altre pietanze ma poi ma poi cioè Tokyo è la città con più stelle Michelin al mondo lo sapevate? male è male sia per la cucina giapponese che anche per altro il numero di stelle Michelin allora io dico vorrà dire qualcosa tanto più che neanche la prima volta voglio dire che Tokyo è incoronata regina delle tendenze gourmet nel mondo cioè più di Londra più di Parigi più di New York più di Milano capito cioè ci sarà un motivo no cioè uno cioè uno ci vorrà riflettere perché cioè uno sicuramente è la grandezza cioè Tokyo è immensa per cui c'è proprio c'è proprio la cultura del cibo c'è proprio ecco poi a Tokyo però ci sono anche tanti ristoranti voglio dire Tokyo è venti volte Milano tutta la Lombardia è chiaro che lì hai anche le possibilità poi Tokyo è ricca essendo una città ricca gli chef quanti chef anche i nostri cioè vanno a Tokyo e hanno poi la possibilità girando denaro anche di dare sfogo alla creatività perché nel momento in cui tu hai un pubblico che può spendere i giapponesi sono peggio degli italiani se si mangia bene non fanno storie sul prezzo però bisogna mangiare bene e poi soprattutto ci sono cucine di tutto cioè da tutto il mondo cioè si mangia vietnamita francese italiano greco adesso per esempio a Ginza c'è un ristorante greco scicchissimo per dire per cui c'è proprio questa anche voglia di c'è molta disponibilità c'è molta disponibilità anche mentale proprio a scoprire nuovi sapori e accettarli poi comunque come noi partiamo per un viaggio è un pezzo di parmigiano ce lo portiamo insomma o il caffè o qualcosa del quale non possiamo assolutamente fare a meno così i giapponesi quando viaggiano si portano le umeboshi si portano i ramen precotti eccetera eccetera perché comunque abbiamo bisogno insomma di alcune cose nostre perché non se ne può fare a meno no per bilanciare la carne di cavallo il brodo di carne eccetera eccetera volevo dire comunque anche per allacciarmi il discorso della spiritualità che era stato il primo nostro incontro che dove ci sono dei conventi dei santuari insomma piuttosto grandi dove ci sono dei monaci che fanno scuola eccetera si mangia intorno ci sono ristoranti che fanno cucina vegana o vegetariana e nel monastero nel convento fanno cucina vegana perché comunque nella tradizione spirituale buddista scintoista non si mangia la carne non si mangia niente di animale anche le uova anche il latte no e c'è una si chiama shojin ryori questo cibo vegano dei monaci è una tradizione molto molto interessante e molto ovviamente a base di riso di grano saraceno di soba di alimenti di verdure di stagione di semi semi di sesamo che vengono proposti in vario modo fanno una sorta di mousse di semi di sesamo buonissima i monaci della scuola Soto Zen per esempio hanno come principi quotidiani la preghiera Zazen e cucinare e per fare questo questo gomma tofu che sarebbe un tofu appunto di semi di sesamo devono per sei ore pestare i semi senza andare troppo veloci senza stancarsi girando 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 i semi fino a quando diventano come una come un peanut butter come un burro di sesamo dopodiché devono aggiungere qualche cosa per farlo diventare solido ed è qualcosa di molto calorico è molto buono buonissimo le verdure di stagione qualsiasi tipo di verdura germogli hanno forse in confronto a noi italiani hanno meno verdure però hanno una una cultura dei germogli per esempio incredibile le foglie i petali dei fiori in tempura cioè cose veramente nella cucina kaiseki che è la cucina tradizionale di stagione e che viene servita in alcuni ristoranti o nei rio can fuori città in particolare si mangia un pochino così appunto queste queste verdure incredibili e bene no no sì sì io volevo dire che nel io qui a un certo punto nel libro del rame no scusa nel libro del rame nell'arte del sushi ho tradotto delle tavole cronologiche mi diverto ogni tanto io quanto mi garbano a me le tavole cronologiche perché poi ti raccontano tutto cioè te vai nella tavola le tavole e ti capisci come funzionano le cose no e allora c'era questa la strada del washoku perché quando ho pubblicato questo libro che era il 2015 era l'anno prima la cucina giapponese è stata dichiarata patrimonio dell'umanità il washoku allora io ho tradotto queste questa strada del washoku che sono delle tavole cronologiche che raccontano come si è sviluppata e proprio qui durante il periodo kamakura c'è questo monaco zen uno dei più importanti dello zen che dogen che scrive dei trattati fondamentali proprio questo della soto della scuola soto ecco proprio zen che scrive proprio questi trattati fondamentali sulla cucina vegetariana perché d'altra parte questi stavano in mezzo ai boschi cioè nel senso mangiavano quello che avevano lì no e poi anche le buone maniere che tanta parte hanno invece nella proprio nel le buone maniere ma intese anche non solo nell'estetica ma perché la buona maniera ti importa a non sprecare capito cioè a mangiare con parsimonia poi no perché comunque lo spreco non è ammesso nella 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 cucina specialmente quella appunto dei tempi per cui lui scrive proprio questi trattati che sono bellissimi